Acquisizione di foto. Dopo aver attivato la modalità spia, premere sul telecomando il tastino di acquisizione foto. Il lampeggio della luce blu ci indica l'acquisizione. Un altro sistema per acquisire la foto è quello di premere sul retro il secondo tastino, il tastino centrale. Un semplice clic scatta la foto.